Settore frutticolo, quello delle mele in particolare, che annata è questa che stiamo vivendo? La raccolta delle mele è iniziata a ferragosto con le mele estive e purtroppo le prime avvisaglie del mercato non sono positive. I consumi ridotti, i costi già quelli della campagna più quelli del magazzino per la conservazione molto alti e per il momento le prospettive sono sicuramente poco incoraggianti. Ieri come Coldiretti abbiamo ottenuto un incontro con la regione per rimarcare qual è la preoccupazione delle aziende sia quelle che producono sia la filiera che confeziona e vende la grande distribuzione perché qui bisogna ricordarci che questo è un indotto specialmente legato alle mele che coinvolge tutto un territorio, tutta un'economia che non possiamo sicuramente lasciare compromettere. Bisogna mettere in campo delle azioni straordinarie e bisogna però comunque per il futuro puntare su una promozione del prodotto, questo del corso della Valle Varaita è un piccolo esempio però se pensiamo che in Piemonte abbiamo 6.000 ettari di mele e la Polonia ne ha 155.000 è chiaro che noi dobbiamo puntare a differenziarci perché solo sulla quantità non possiamo sicuramente competere. C'è poi la questione dei prezzi e del salto che fa dal contadino fino per arrivare al consumatore. La grande contraddizione è che il consumatore trova spesso sui banchi della distribuzione frutta a prezzi molto alti e il produttore prende una volta di meno anche perché se noi contiamo un chilo di mele venduto a 2 euro si stima che con i costi attuali all'agricoltore rimarranno 15 centenimi quindi chi paga è un prezzo totalmente sotto i costi di produzione quindi chi paga è sempre il primo e l'ultimo nello della filiera e questo non va bene perché comunque la produzione ha un costo quest'anno poi abbiamo avuto grandi problemi di mano d'opera abbiamo avuto la difficoltà del decreto flussi che ha bloccato tutta una serie di lavoratori che erano già professionalizzati, che non sono arrivati nelle aziende e il costo della mano d'opera incide moltissimo su una raccolta che comunque è tutta manuale perché se vogliamo garantire un prodotto di qualità l'unica strada è quella del lavoro manuale ben fatto.